Dal suo osservatorio privilegiato, diciamo che dall'alto ci guarda un po' tutti, secondo lei si sta uscendo da questa crisi o ancora c'è molto da fare? Secondo me non si sta uscendo dalla crisi perché è in movimento tutto l'ordinamento dello Stato, non soltanto in virtù del federalismo fiscale ma anche proprio sulla base della disarticolazione dello Stato nazionale tradizionale, c'è alcuni poteri che rimangono a livello centrale ma come si riarticolano i poteri locali non è ancora chiaro, per cui c'è una specie di sabbia mobile e noi dobbiamo cercare di uscirne senza rimanere invischiati, per riuscire a dominare questo processo bisogna conoscere che cosa in realtà sta succedendo altrove e soprattutto quali tipi di correlazioni, di sinergie possiamo stringere con altri pezzi di questo sistema locale. È una grandissima sfida, credo che si giocherà nei prossimi anni, di cui grossomodo al 2013-2014. Grazie. Grazie.